Il Covid sarà sconfitto quando ci sarà copertura vaccinale ovunque a livello mondiale. Lo ribadisce al TG8 il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'ASL di Pescara, Giustino Parruti, evidenziando l'importanza della vaccinazione alla luce del calo di somministrazioni registrato nelle ultime settimane anche in Abruzzo, dove la copertura della quarta dose per anziani e fragili non è decollata e la stagione influenzale è già arrivata. A ciò si aggiunga l'aumento dei contagi nelle scuole e l'obbligo di indossare le mascherine che permane solo nelle strutture sanitarie. Quanto preoccupa il drastico calo di vaccinazioni anti-Covid in Abruzzo e quali conseguenze potrebbe avere a breve e lungo termine sulla popolazione? L'effetto combinato della ripetuta anche esposizione della popolazione all'Omicron 5, tante persone l'hanno preso due o tre volte, e del lavoro che si è fatto fino adesso sulle vaccinazioni, nell'immediato non crea una situazione di alto rischio, ma nel medio e lungo termine dobbiamo mettere in chiaro che tutto questo non basta. Cioè il problema dell'interruzione, come dire, dell'attenzione sulla procedura vaccinale preoccupa nel medio e lungo termine perché innanzitutto il problema del SARS-CoV-2 lo potremo considerare risolto quando sarà risolto a livello mondiale. Finché avremo tra 1 e 3 miliardi di persone non vaccinate sulla Terra, come attualmente è la situazione, avremo sempre un rischio importante di che si generino nuove varianti che potrebbero riproporre per il mondo intero un problema. Comprendo le remore in chi debba iniziare oggi, come per ogni aspetto, una vaccinazione nuova, ma chi ha fatto già tutte le dosi previste senza problemi può avviarsi al richiamo senza timori. Altro argomento di grande attualità è quello che riguarda la vaccinazione anti-influenzale. Qual è il momento migliore per vaccinarsi in base all'età e alle categorie? Oggi, nel senso che siamo oramai nel cuore del mese di novembre e quest'anno temiamo che possa esserci con la riapertura dei confini ai trasporti totali oramai e con l'interscambio che è ripreso in maniera serrata in assenza dell'uso di mascherine, noi temiamo che ci possa essere un'ondata influenzale più importante, considerando anche che l'immunità di, come dicevo per i vaccini anti-Sars-CoV-2, l'immunità di comunità, l'immunità di greggio e contro l'influenza si è ridotta perché per un anno intero non ha circolato per niente. Quindi è bene cominciare a vaccinarsi senz'altro da oggi se abbiamo tempo di farlo.